È stato prorogato al 15 febbraio il bando aperto dal Comune di Cittadella a sostegno delle attività ludico-ricreative extra-scolastiche dei ragazzi. Dallo sport ai corsi di musica o teatro, le famiglie con figli minorenni fino ai 17 anni di età e unise e non superiore a 30.000 euro potranno presentare domanda tramite lettera raccomandata OPEC al Comune che potrà finanziare fino all'80% delle spese sostenute con un tetto di 300 euro a minore. Le famiglie con più figli potranno presentare domanda per ciascuno di loro. Per informazioni si possono contattare i numeri 049 94 13 475 o 049 94 13 457.